Qualche giorno fa ha cominciato a circolare la notizia che qualcuno avesse hackerato il sito della Pfizer e che dai dati risultasse che alcuni lotti del vaccino avessero causato un numero di morti eccessivamente superiore rispetto alla media degli altri lotti in altre parole qualcuno avrebbe scoperto che alcuni lotti del vaccino Pfizer causavano la morte molto più degli altri abbiamo fatto una ricerca abbiamo scoperto che la notizia è vera ma che in realtà non c'è niente di hackerato o di misterioso nel senso che queste informazioni stanno già tutte nel database ufficiale americano delle reazioni avverse il famoso virus basta saperle cercare io stesso ho appena fatto una prova e fra poco ve la farò vedere allora andiamo con ordine il tutto nasce da una signora americana che ha avuto sia il padre che la madre morti dopo la vaccinazione siccome si erano ambedue vaccinati e sono morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra questa signora è andata a riguardarsi i documenti di vaccinazione dei suoi genitori e ha scoperto che sia il padre che la madre erano stati vaccinati con lo stesso lotto di Pfizer e J6796 allora è andata sul database del virus per vedere quante altre persone fossero morte dopo aver fatto questo specifico lotto di vaccino e ha scoperto che erano molte molte di più della media sul database del virus infatti si possono fare ricerche molto complesse e si può includere anche il numero di lotto di ogni singola vaccinazione ho provato anch'io a fare la ricerca questa è una schermata dei risultati a sinistra c'è l'esito morte poi c'è il tipo di vaccino utilizzato poi c'è il numero dell'otto e poi quante persone sono morte dopo aver utilizzato quell'otto come vedete mediamente ci sono una due o tre morti segnalate per ciascun lotto usato ogni tanto però ci sono anche dei numeri che saltano all'occhio ad esempio qui in mezzo a una serie di numeri bassi salta fuori di colpo un 73 cioè praticamente tutti questi lotti di vaccino hanno registrato un numero basso di segnalazioni e numeri molto simili fra loro mentre di colpo il lotto EM0477 ne ha registrate 73 a questo punto qualcuno ha fatto una ricerca più approfondita e ha messo in ordine tutti questi dati in misura decrescente per vedere quanti fossero i lotti anomali rispetto al totale dei lotti utilizzati nel mondo il sito how bad is my batch ha pubblicato tutti questi dati divisi per marca di vaccino in ordine decrescente io ho provato a cliccare sui dati Pfizer fuori dagli stati uniti visto che sono quelli che ci riguardano più da vicino dalla colonna di sinistra c'è il lotto del vaccino poi ci sono le reazioni avverse riportate poi le morti e infine i casi di disabilità permanente la colonna che ci interessa di più ovviamente è quella dei morti man mano che saliamo verso l'alto aumenta il numero delle reazioni avverse e aumenta anche piano piano quello delle morti che però restano relativamente basse per quasi tutto il tabulato ci sono pagine e pagine di lotti diversi con numeri di morti relativamente bassi fra 0 e 5 ma poi quando si arriva in cima al tabulato proprio nell'ultima parte ecco che i numeri dei morti per ogni singolo lotto comincia a salire vistosamente salgono le reazioni avverse salgono le morti e salgono ovviamente in proporzione anche le disabilità permanenti con una curva però assolutamente anomala lo stesso tipo di curva a salire si verifica anche per i lotti del vaccino moderna con centinaia di lotti a bassissimo tasso di mortalità e poi di colpo in cima alla tabella una impennata di morti per ciascun lotto usato in termini di percentuale complessiva da questi tabulati risulterebbe che la stragrande maggioranza delle morti segnalate dopo il vaccino siano causate da un 5 per cento soltanto dei lotti usati 5 per cento circa in altre parole sembra che ci siano dei lotti particolari di vaccino che hanno causato mortalità e danni permanenti in misura statisticamente molto più alta della media di tutti gli altri lotti questo ovviamente pone un problema enorme non solo per chi si va a vaccinare ma anche per gli operatori sanitari che effettuano le vaccinazioni teoricamente lo stesso vaccino dovrebbe dare una media di morti e di reazioni avverse simile indipendentemente dal lotto usato invece qui ci sono dei picchi inspiegabili per alcuni lotti particolari io mi fermo qui la materia è troppo delicata e non voglio trarre conclusioni definitive non è il mio compito però ho voluto mostrarvi questi dati perché mi sembra doveroso avvisare che c'è una forte discrepanza statistica fra i lotti usati e le reazioni avverse segnalate il database del virus è accessibile a tutti mi auguro che chi ne ha le responsabilità e la competenza faccia le dovute ricerche e ne traga le giuste conclusioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti